ciao ragazzi sono volsciente qui con me c'è amor rouge e come al solito riprendiamo la dove avevamo lasciato il gioco e come promesso andiamo in giro a cercare un po di cose si 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 c'è la fame qua lo sai che si può pescare no però non ho mai preso niente io che bello allora ma io direi di incamminarci intanto la nostra base c'è qualcosa di non finito che ci da un segno nel martello no assolutamente no lasciamo qualcosa in costruzione sennò poi non la troveremo mai mai più e quel qualcosa in costruzione sarà un bel fuoco ok lasciamo così abbiamo il martellino ragazzi questi sono i trucchetti del mestiere esatto lasciate un martello così vedete dove sapete come tornare indietro ci ha insegnato volsci nella prima puntata si andiamo proprio facciamo solamente tartarughe per il momento dobbiamo esplorarla quest'isola qualcosa c'è a guarda qua qua c'era il comitato il benvenuto sull'isola che ha messo una macchina fotografica nella bocca di uno sorridi ma non sapete che su quest'isola c'è un cerbiato un altro cerbiato è successo ho ammazzata per appena un cerbiato si ho preso la carne grande mamma mia che culo e abbiamo la pelle di cerbiato e quasi si fa ma ha fatto salire ma ha fatto scendere la vita la pelle di cerbiato no tu se non mi è tutto la pelle di cerbiato che non so che caspita fosse l'armatura definitiva no non si fanno queste cose a non si fa la pelle di cerbiato me l'ho appena messa pericoloso andiamo vieni qua stendiamo un velo velo pietosta intanto ammazziamo me l'ho messa e me l'ha tolto subito mi sa eccolo l'ha un altro cerbiato si col cazzo che ora vedi vedi col cazzo che ora prendo un altro cerbiato ti odio guarda come non vogliono collaborare neanche per il cavolo a farsi uscire ma perché guarda come exaltano come le merde cerbiato tutta la stamina comunque non c'entro niente no no è stato è stato guarda quanti cerbiati ci sono qua vieni qua bambi ammazzato si vediamo quasi questa pelle che cosa ci fa ah mi sto facendo una pelliccia guarda che brutta che è scompare baggatissima è per il freddo molto probabilmente raccogliamo le foglie dovremmo mettere questa pelle questa carne di cerbiato ne ho tantissima perché non provi no tu intanto comincio a costruire un bel fuoco uno normale così possiamo forse costruirci costruirci la carne di cerbiato cuocerci non riesce ad accendere questo fuoco io vado dietro piano piano dici che riesco ad ammazzarlo proviamo si poi fai uno scatto preghi non mi dire che no o una lizard volscente riesce a prendere tutti gli animali manco ne avessi preso uno dov'è il fuocarello che avevo costruito e com'è scomparso subito e qua c'è un mostro morto mollo che non si taglia pezzi oh ho costruito il fuocarello è passato un'iguana di fianco questa volta ti prendo una volta ti pre ecco a chi è andato qua c'è un'altra lizard no che sta scappando e l'ho ammazzata si sono mister survival ok e lì c'è un'altra muori pamma si no no le lucertole non le prende ce la fa no 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 ce la fai ce la fai dai che ce la fai ce la fa ci sono altre lucertole qua in giro mezzo tocco baggato ok abbiamo ok ora possiamo cucinarci la carne di cerviato guarda quanto è grosso questo pezzo di carne mamma mia vuoi venire a cena? si di peccato che non la vedo la carne c'è solo sto particolare l'ho preso l'ho preso no qua si ho ammazzato uno quasi taglio la strada gli taglio la strada si si cucerà sarà domani questa carne ok eh guarda guarda sono dietro di te mi ha fatto risadire la vita tantissimo l'ho preso si si l'ho visto non mi prendere per favore te lo prendo io il cerviatto l'ho preso l'ho preso l'ho preso ok allora niente niente cerviatto ho preso generic myth oh uno mi è venuto com'è che questo cerviatto è immortale si è preso due colpi davanti e non è morto come faccio a metterla nel fuoco la sezione la metti in mano prima nell'inventario clicchi sul pezzo si e poi la metti là poi si cuoce dopo un pochettino così vi faccio vedere anche io amici lo tocco di carne com'è che questi cerviatti sono immortali bello guardate vosce ah un'altra lizard questo è bello easy kill a lui gli piacciono le lucertole è così è un patito è un patito delle lucertole però mi sono fatto quasi quasi l'armatura devo sono pieno di carne è l'esplorazione qua metto la carne però a fuoco così posso prendere un'altra lucertola mangio questa e continuiamo l'esplorazione che a me la carne piace c'è anche un flare se vuoi devo usarlo di notte c'era una piuma che me la sono persa mi serviva per le frecce dell'arco ce l'ho io non te le posso no ma figurati in questo gioco è ognun per sedio per tutti secondo il programmatore non si può passare niente neanche per salvare la vita della propria figlioletta figlia unica ok mangiato andiamo si continua dal martello il martello è da quella parte ma come questi non mi muoiono più no ma di carne sono pieno di carne no non si vede va bene andiamo il martello è da quella parte ti faccio te la indossi cliccaci sopra quella di cerbiatto credo che sia come vestiario e quella di lucertola è l'armatura che ora ce l'ho piena non mi colpire che assorba i colpi finché non muori così prende tutto il posto della vita benissimo benissimo questi cerbiatti come quello che ho appena ammazzato mi sa perché mi sono sporcato di sangue ma è scappato dietro ma che ma come cazzo non muoiono mai vabbè andiamo 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 io cerco di tenerci proprio alla parte opposta del martello vediamo se riusciamo ad arrivare da qualche parte guarda qua che cosa c'è che bella zona hanno messo lingue e le hanno legate perché sono ospitali e qua che c'è oh l'ingresso molto avvi mente un ingresso no no non è un ingresso c'è questo questo cazzo di filo cazzo hanno fatto per la serie siamo qua e siamo fighi ma questo non lo capirebbe neanche una piuma ci sono le foglie qua che cadono vieni vieni giriamo intorno a questa montagna vediamo se c'è un ingresso o una caverna o qualcosa di figo a parte questi spacco tutti sti cosi qua oh tutti questo cazzo di cerbiatto che tende ad entrare dentro le rocce come tutti i cerbiati questo è un cerbiatto di montagna rocciosa sono hanno questi poteri vediamo cosa c'è là sotto vediamo 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 altro cerbiatto per dare una un'altra cagnata si 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 ma qua non c'è una vega si continua ah c'è la carne che hai lasciato qua ah no il pezzo di teschio che bello la carne e il pezzo di seschio sono facilmente confondibili andiamo muori si troio dovrebbe essere circa mezzogiorno ecco continua a metterci questo questo caspita di vestiario allora diciamo il mortello è sempre là quindi dobbiamo girare questo lato della montagna idealmente vogliamo cucinare io sono pieno c'era una pietra ho raccolto la pietra ma il bello possiamo cucinare la carne e tenercela da parte no eh no per questo io metto ad essiccare perché essiccata si può usare quando vuoi quindi all'accampamento metti pure le tue ad essiccare e siamo a posto è come avere dell'energia sempre pronta anche perché quando cucini ti consiglio di cucinare ti va a salire pure la la resistenza ti porta e quindi questo di qua è un buon vantaggio perché dobbiamo fare panchine ogni due secondi anche se le panchine quando erano costruite secondo me è lasciata un po' ovunque sull'isola perché non si sa mai eh qua possiamo farla su voi eh facciamocena una panchina qua due secondi te la faccio se capisco dove cavolo è vabbè facciamola subito una panchina dai la teniamo trovata questa zona sembra qua si bravo due tronconi ah li stai già prendendo tu bravo si sto cercando vediamo se mi cade in testa l'albero io sto fermo si si vediamo se mi fai vediamo se fortunello vai vai prova tatattattattattatt� eccomi vediamo eh mi sa eh mi sa no no ti manca però eh puoi col miracolo parabam Perché non l'ha Non l'ho usato Eccolo Eh, vediamo se mi... Oh, ci possiamo stare pure contemporaneamente Che bello, che siamo belli Vieni, 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 uomo cattivo Da questo lato, da questo lato Perché cerchiamo di tenerci lontano da quel martello Allora, vediamo cosa c'è qua Un Hobbit, un Hobbit No Sì Ma lo sai, ci sono gli Hobbit in questo gioco Mi sono messo un po' di armatura In effetti mi è cresciuto il giallo Arriva al massimo Fino alla prima metà Ed è buono, perché è come avere doppia energia Capisci che Quando ci vanno gli incontri, che facciamo noi Perché non abbiamo fortuna Ci troviamo 500 Però mi è piaciuto tantissimo Come non abbiamo giocato per qualche giorno E nell'accampamento La vegetazione è cresciuta in maniera pazzesca Allora, qua siamo al mare Come è profondo il mare Come è profondo il mare Ma non salterei da qua Vieni Amon Non ti incantare davanti alla natura Sai, sì, sì, sì Vediamo Se abbiamo questa scogliera Magari Perché Secondo me Quello che dovremmo fare Proprio di figo 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 È costruire una bella casa galleggiante Che richiede Che richiede Pazienza Oh, via Minchia Piano, piano, piano C'è mezzo mondo di là Tu non li vedi Vieni vicino a me Sono tutti là E noi ce ne passiamo Per fortuna c'è anche un po' di nebbia Che mi sa che ci facilita Ho mangiato le funghetti Che non mi hanno fatto male Stranamente Qua ci sono andole Intanto ho tutte queste Belle pietre Qua È una scogliera imponente Diamo un'occhiata Sporgiamoci Mamma mia Che cosa c'è di qua Proprio Dobbiamo continuare così Ma se stiamo ritornando Verso Verso casa Diciamo Abbiamo circunnavigato tutto Sì, sì Ah Specialmente Cum Andiamo Qua non ci sono altri Cerbiatti suicida No Me ne è sponato uno davanti Sì, hai visto Ok Qua si può cominciare a scendere Un tantino Sì Ho trovato La via Per la terra di mezzo Dai Andiamo 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 Scendiamo Scendiamo Ah, mi sa che qua Mi sa che la via è finita Guarda là c'è una barca distrutta Per ora qua Sì, però Mi sa che da qua scendere non è proprio proviamoci ma piano piano proprio mamma mia sono bravissimo io a scendere le scogliere impervie sfruttando i bug o al paradiso dei gerbiatti si 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 ti uccido vieni qua madre natura ti odia a coniglio vieni qua no mancato c'è un altro gerbiattolo sono intrappolati qua non sanno dove gerbiattare ma ho dentro la roccia che ter del cazzo questi gerbiattini merda ma no ho ammazzato pure finalmente ho ammazzato anche uno scogliattolo però non ti da niente acqua non si può passare però guarda che figata c'erano due o gerbiattolo ho trovato una corda nella barca io soffrendo l'enduranzo non trovo una corda è trovata nella barca vediamo un istante se con la faccia hanno messo altre strutture altre cose no abbiamo abbiamo la barca che si può costruire small raft perché non l'abbiamo ancora costruita che ci sono sei tronchi andiamo subito sulla spiaggia andiamoci a costruire subito subito vediamo se possiamo navigare dove dove la costruiamo dove la costruiamo un istante mi stanno chiamando pure su skype perché non capiscono che mi stanno disturbando tantissimo e noi nuotiamo con il boom 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 rompiamo le palle pure tu autentico boom 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 perché sappiamo che la musichetta di skype è gettonatissima speriamo che non ci siano squali papara tattada meno male che non è coperta la copyright la musichetta di skype si vabbè sarebbe scandaloso eh adesso ah ma dagli tempo l'acqua color marrone non è praticamente queste mani si eh io sto cercando di fare miracoli sto provando a camminare sull'acqua forse io sto provando ad arrivare a quell'isola no forse quella più in fondo dobbiamo arrivare è meglio tu che ne dici perché ah si si va bene ah non si può sprintare in acqua no eh si può sprintare in acqua certo è notare più velocemente guarda qua pure la notte ci sta sprintando addosso da quando siamo stati veloci abbiamo cominciato a notare a mezzogiorno e già mezzanotte mamma mia comincia a diventare sempre più tetro andiamo sott'acqua andiamo no non possiamo no si tiene a galla il nostro personaggio perché è furbo ora vediamo quegli indigeni che fanno moto d'acqua vediamo quest'isoletta vediamo se c'è qualcosa speriamo che non ci siano squali 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 te l'ho detto che spero che non ci siano squali no è la prima che hai sentito eh speriamo che non ci siano squali allora cosa c'è su quest'isola A parte che una pietruzza e poi c'è un'altra pietruzza, una pietra più grande e una tenda di qualcuno che secondo me non ha avuto tanta fortuna su quest'isola Ok, c'è pure la mia ombra proiettata a distanza ragguardevole E dobbiamo andare, si nuota Siamo sott'acqua, oh nuota Wow Siamo, se vedi l'accampamento non ce l'abbiamo tanto distante però io non ci tornerei Alla fin fine ora sono bello, siamo vestiti di pelle di bambi Simpati appunto Noi tutti i miracoli della Disney li stiamo uccidendo Tanto è di notte, stavo dicendo guidare, vabbè, e nuotare di notte è veramente brutto Guardate come scende la notte in fronte Oh, si si, wow che bello però Guardate, guarda il tramonto a destra, a destra, a destra Noi ora, molto probabilmente, visto che abbiamo ammazzato qua gli scoiattoli della Disney Bambi, sempre lì della Disney La sirenetta, visto che stiamo in mare, secondo te? Che può essere Un bel fritto misto di sirenetta, di Ariel E io la sirenetta, prima di ammazzarla, vabbè Il pesciolino Nemo Vedi che l'ho capita in ritardo, ma l'ho capita Sono dei luccichi strani Sì, eh, lo so io di che cosa sono quei luccichi Perché il nostro campamento è più sulla sinistra Quei luccichi sono le lanterne in testa agli indigeni E sono veramente tanti indigeni È la luna anche Ah, può essere, no, anzi, è la luna fra gli alberi Che sembrava delle lanterne Ma tu sei troppo avanti Perché tu sei un cazzo di esploratore Ti posso chiamare Cristoforo? Sì Ti posso chiamare Colomba? No Perché? Colomba? Cristoforo va bene Ragazzi, pollice in su se volete che ho chiami Colomba, Amon Per il resto degli altri 590 episodi che dobbiamo fare Giusto per farlo arrabbiare un tantino Qua c'erano ancora pietre Quante cazzo di pietre Come faccio a nuotare con queste pietre? Dovrei colare a picco proprio Oh Wow Wow Il mio è leggermente stanco e È a metà della fame E il mio è tutto sudato Bagnato sarà E si continua a nuotare Ma perché quando nuota non sente mai freddo Mentre invece basta che pisciano due gocce d'acqua È tutto disperato È un mistero È un mistero Che gli sviluppatori credo che ci diranno nelle prossime puntate Ogni volta che piove fam Oh madre mia Sono rovenato Salta Salta Bravo Ce l'ho fatta scalare sempre più in alto Eccoci qua Ok Che sono questi? Uh che belli Allora Siamo in una zona Senza alberi Anzi ci sono un paio d'alberi Io farei un fuoco Giusto per Sì Facciamo sto fuocarello Lo costruisco io Dai che c'ho Sì 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 Facciamo lo romano Sulla spiaggia Qua Qua Ta 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 Accendiamo Non si accende Perché non riesco ad accendere io? Anch'io riesco Eccolo Inventario E cuciniamo Cuciniamoci il cerpiato Allora Io mi voglio fare invece Dov'è la carne? La carne di rabbit Perché non riesco a cucinare? Non la vedo più Non riesco Ho regato la carne di coniglio No Ora mi da la c di cucina Ok sto cucinando Ah 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 Oh guarda chi c'è C'è la troia Scusa che io intanto qua Devo salvare la nostra vita Perché se questa qua Comincia a portare Altri stronzi Cominciamo a vedere qua Eccolo 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 Perfetto Io alimento il fuoco No mi si è bruciata la E fammi mangiare Questa cosa Perché ancora non me la dà La cosa per mangiare Ah Eh 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 Oh sto benissimo Mi sa che Amon dobbiamo staccare Questo episodio E fare il terzo Cosa ne dici? Siamo a 23 minuti Quasi 24 La zattera Sì la zattera Però ci vogliono Cinque corde Eh vediamo Io ne ho corde Intanto Io non vedo una ceppa Giustamente Possiamo Cloth can be used for crafting Per costruire Ma non so se si può fare la corde Dobbiamo trovare le corde Eh va bene Ok ragazzi Con questo episodio Quale che numero è questo episodio? Guarda che sta arrivando Sì 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 Guarda prima a sinistra Che stanno camminando sott'acqua Stanno arrivando Mamma mia Mamma mia L'episodio horror Mamma mia Sono inarrestabili Ok Con questo episodio è tutto ragazzi Grazie E alla prossima Ciao Ciao a tutti amici Ciao